freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete una specie di capodanno dei freelance ora mi sbagliavo sul lavoro da casa quante quanti di voi lavorano per il 70 per cento almeno del proprio tempo da casa e che strumenti utilizzate per lavorare caffettiera pc divano scrivania smartphone stampante quindi sono strumenti che utilizziamo per contattare i clienti scrivere dei testi fare le grafiche i preventivi sono gli stessi strumenti che utilizziamo anche per sapere come sta un'amica che abita a 400 chilometri di distanza fare i corsi inglese o contattare lo psicologo quindi sono strumenti che utilizziamo sia nella nostra vita professionale sia nella nostra vita privata e lo facciamo questo all'interno dello stesso spazio nello stesso spazio condividiamo sia lavoro che vita privata qui ci vorrebbe probabilmente un esperto un'esperta di design per capire come ragiona la nostra testa se prendiamo in mano una calcolatrice una macchina da scrivere probabilmente ragione in modo diverso ma magari la ragione in modo diverso anche se prendiamo una macchina da scrivere una biro e allora forse non ragiona benissimo la nostra testa quando utilizziamo sempre gli stessi strumenti nello stesso posto per fare cose completamente diverse nella mia esperienza ho visto che la mia testa lavora molto peggio da quando non ho più un ufficio separato da quando ho iniziato a lavorare proprio in casa mi sono resa conto che è una cosa che mi stavo portando dietro da un po di tempo ma l'ho realizzata l'ho realizzata di recente e questa difficoltà quindi abbiamo parlato molto spesso no anche il concetto della solitudine del freelance solitudine del freelance è non avere colleghi e colleghe con cui confrontarsi quando facciamo tutto questo all'interno di un unico spazio che porta dentro sia vita privata che lavoro acuisce secondo me questa sensazione ci manca un collega che ci possa aiutare a superare una difficoltà magari abbiamo abbiamo un progetto che stiamo portando avanti e siamo incastrati in un passaggio non riusciamo a sbloccarlo e questo ci generano dei ripensamenti rimuginiamo tendiamo procrastinare non affrontiamo il problema perché non abbiamo qualcuno con cui confrontarci l'altro problema che noto è che ci siamo persi anche lavorando da casa molto spesso la componente relazionale tempo fa ho lavorato in un'azienda quelle con uffici e cartellino e le persone con cui collaboravo all'epoca non le avevo scelte io erano appunto i miei colleghi varia risma c'erano maschilisti assente isti qualche d'uno con qualche problemino di igiene personale perché capita succede e con queste persone però che cosa ho condiviso ho condiviso le battute il sabato mattina durante uno straordinario perché c'era una consegna importante da fare abbiamo condiviso felice navidad cantata loop per una giornata intera fino a farti scoppiare le orecchie abbiamo condiviso le pizzette il giorno del compleanno di qualche d'uno durante la pausa caffè del mattino e ma quando lavori da casa quando sei da solo o da sola queste esperienze con chi le fai ti mancano un po posto che magari non erano le persone con le quali avrei confidato chissà che cose della mia vita personale però comunque c'era una relazione allora quando lavoriamo così da remoto che possibilità abbiamo per scardinare un po questa solitudine di lavoro domestico una soluzione è il co working quindi dedicare del tempo all'interno di uno spazio condiviso quando ho aperto la partita iva avevo pensato di andare a lavorare in un co working dopodiché vedevo l'affitto mensile della scrivania e dicevo io questo non me lo posso permettere col senno di poi ragionandoci probabilmente un affitto mensile non me lo sarei potuto permettere ma magari qualche giornata spot si una giornata ogni tanto andare in uno spazio di lavoro probabilmente anche con una certa cadenza una certa regolarità così trovi delle persone con le quali scambiare battute alla macchinetta del caffè fare un pranzo assieme e da queste conversazioni più o meno leggere possono nascere anche degli stimoli per risolvere i nostri problemi quotidiani un'altra soluzione è quella del retreat cioè si passa del tempo con delle persone selezionate con delle persone che magari sono nostre più o meno collaboratrici collaboratori e si decide di spendere assieme un piccolo tempo di lavoro concentrato quest'estate mi è capitata la possibilità di fare qualcosa che unisse un di queste due esperienze si chiama nat week è un progetto di un'associazione che si chiama networking come nel coworking ho avuto la possibilità di lavorare con persone che non erano miei colleghe non erano miei colleghi come nel retreat la durata era limitata una settimana e si condivideva assieme sia tempo di lavoro che tempo non lavorativo tempo ricreativo abbiamo passato una settimana in provincia di albenga castelvecchio di rocca barbena un paesino che fa 127 abitanti forse per la questura 40 veramente piccolino e qual è lo scopo del progetto è un progetto di rigenerazione urbana vuole mettere in comune piccoli borghi abbandonati piccoli borghi nella natura e farli incontrare con invece il nuovo mondo del lavoro che ci sta dando questa possibilità di lavorare da remoto di lavorare da ovunque con me c'erano sia freelance ma anche lavoratori dipendenti che hanno questa possibilità del lavoro agile nel progetto di rigenerazione urbana c'è una ricaduta sul territorio che cosa significa significa che non siamo chiusi in una casa tipo grande fratello a lavorare e dormire per sette giorni ma in realtà interagiamo con quello spazio circostante ed è molto bello perché ti trovi in questi spazi diciamo poco urbanizzati vicini alla natura quindi anche questo secondo me per gli occhi e per il nostro lavoro quotidiano ci dà uno stimolo diverso no un conto è affacciarsi la mattina alla finestra e vedere i palazzi e le case un conto è uscire e vedere i boschi e vedere gli alberi poter passeggiare in un in un borghetto questo aspetto di rigenerazione urbana che sta dietro al progetto della della nat week secondo me è stato molto importante per raggruppare anche persone con un'affinità simile cioè eravamo tutte quante persone chi più chi meno attento alle tematiche di rigenerazione urbana attento agli aspetti di attenzione alla natura c'è stato un partecipante che da senigallia è venuto in bicicletta in liguria grande kudos per lui io non ce l'avrei mai fatta però comunque c'è un'attenzione quindi questo comunque porta a selezionare per affinità le persone che partecipano come svolgeva la nostra settimana abitavamo abbiamo abitato tutti quanti all'interno di una stessa casa avevamo un co working c'era stato dato dall'amministrazione comunale uno spazio quindi scrivani e divani c'erano anche divani per per lavorare c'era la wifi pausa caffè la si faceva al bar della pro loco perché era la seconda attività la terza attività commerciale dopo il bar ristorante albergo da dieci camere e il panificio alimentari e la sera grazie anche al lavoro dell'associazione si è riusciti a fare dei momenti di unione tra i partecipanti e ci hanno fatto anche conoscere il territorio ci hanno anche fatto conoscere il comune abbiamo fatto lezioni di yoga abbiamo fatto un giro per vedere un frantoio e degli ulivi abbiamo capito anche come si può stare come si può vivere all'interno di questi spazi che ovviamente hanno delle criticità hanno delle difficoltà ma ti danno anche molto opportunità per un ritmo di vita più lento e quindi mi sono trovata a lavorare una settimana lontano da casa portandomi un po quello che facciamo normalmente con la vacanza cioè la vacanza ci permette di uscire dal dal lavoro per distrarci per rilassarci e concentrarci su di noi su quello che ci piace fare su come passare il tempo libero in questo modo ho fatto il contrario cioè mi sono tolta dalle preoccupazioni piccole quotidiane che abbiamo tutti quanti perché quando sei a casa e lavori da casa se ti si rompe la lavatrice e deve arrivare il tecnico tu quella roba lì te la porti in testa anche se che se stai lavorando su canva per fare una grafica per i social questa cosa qui mi ha permesso di distaccarmi un po dalle preoccupazioni quotidiane e quella settimana lì è stata molto focalizzata molto efficace secondo me dal punto di vista lavorativo il merito sicuramente dell'associazione chiara guidarelli che ha che ha seguito il progetto è stata un supporto molto molto grande prima di tutto perché ha fatto da collante ci ha permesso di fare gruppo tra di noi poi ha fatto quel lavoro anche di mediazione culturale con il territorio perché anche spiegare e capire alle persone che abitano lì che cosa significa avere 15 20 persone che per una settimana tra virgolette ti occupano il paese banalmente una sera abbiamo organizzato una cena in terrazzo chiacchieravamo così come faremo stasera al barbagno domani sera alla grigliata alle 11 e mezza ci è arrivata una voce da un palazzo vicino una persona che si lamentava di questo grandissimo chiasso perché per loro non era non era frequente non era abituale questa persona la mattina dopo addirittura è arrivata a scusarsi si era un po agitata perché sentiva qualcosa al quale non era abituato però è un lavoro interessante anche questo cioè riuscire a portare nuove forme di lavoro in territori che altrimenti verrebbero rischiano anche di essere abbandonati e persi la cosa che mi sono portata da questa da questa esperienza oltre a molte riflessioni sul modo che abbiamo di lavorare sono state anche le relazioni umane con le persone ovviamente non sono miei colleghi e non sono miei colleghe però abbiamo fatto cose comunque interessanti c'è stato l'esempio di domenico doveva fare un corso per una classe in sud america e aveva lezione a luna di notte quindi cosa abbiamo fatto abbiamo cenato dopo cena un balletto caffè cazzeggio e lui dopo ha preso il suo trentuno è andato al co-working a luna di notte l'abbiamo visto la mattina dopo per per colazione farlo in un contesto del genere è molto più stimolante che non farlo a casa propria magari non lo puoi fare sempre però qualche volta ti dà un twist rispetto a una routine un'altra esperienza molto bella è che c'era anche un ragazzo di origine etiope ama che una sera ci ha cucinato la tahin tipica del suo paese quindi abbiamo anche scoperto un piatto tipico di un'altra cultura ho conosciuto due ragazze cristina e rosaria che stanno facendo un altro progetto molto simile in provincia di salerno questo progetto si chiama monaci digitali e anche lì stanno ristrutturando una certosa per avere uno spazio sia come dormitorio che come co working anche qui vedete nascono delle altre possibilità degli delle altre connessioni un'altra cosa che mi è piaciuto fare abbiamo fatto un corso di acro yoga con agostino è uno dei partecipanti e così chiacchierando è venuto fuori che entrambi ci piacevano gli articolo 31 e finita la nat week abbiamo scoperto c'era il concerto a bologna e di ritorno ci siamo fermati al concerto quindi cose che non hanno direttamente a che fare con il mio lavoro ok ma che possono portare connessioni possono portare arricchimento e scambio anche per vedere il lavoro in un modo diverso la conclusione qual è ben vengano queste reti noi abbiamo la possibilità di venire qui a incontrarci conoscerci ci possono essere i corsi di formazione workshop dove entriamo in contatto con professionisti professioniste che magari sono più affine a noi di eventuali colleghe e colleghi che troveremo perché non ce li siamo scelti abbiamo la possibilità abbiamo queste possibilità per crearci l'ufficio che vogliamo crearci colleghi che vogliamo sfruttiamo gli strumenti del digitale per mantenere queste reti queste relazioni a distanza e poi costruiamoci anche il nostro spazio fisico che può essere con una cadenza mensile settimanale se non ce la possiamo mettere quotidiana possiamo ecco pensare anche al di fuori della scatola e trovare queste soluzioni intermedie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti